Purtroppo un incidente che colpisce la nostra città in modo abbastanza brutale e dispiace ovviamente tantissimo. Adesso cercheremo come uffici dei servizi sociali di avere notizie e di contattare se possibile il figlio per cercare di vedere se possiamo aiutarlo, assisterlo eccetera eccetera perché giustamente se è rimasto da solo questo ragazzo ha aiutato assolutamente. Si mette a disposizione del giovane Emilian il sindaco di Jesolo Valerio Zoggia come atto concreto di vicinanza e cordoglio. La famiglia Ciovanu viveva da meno di un anno nella zona dell'ospedale ma già era conosciuta e ben voluta anche in parrocchia. Si stavano integrando con la comunità che vive vicino ma non con tutti anche con noi, con gli italiani, con tutti essendo rumeni e erano molto devoti quindi frequentavano molto la nostra parrocchia. Il dolore però si fonde con i soliti interrogativi che accompagnano le tragedie sulla strada. La Triestina è tra le arterie più pericolose in un territorio, quello delle Altinate, già colpito anche nel recente passato. Noi purtroppo nel nostro territorio siamo stati colpiti anche negli anni passati anche da altre tragedie che riguardavano tratti stradali che vanno da Porta Grandi fino a Capossile. Qualcosa è stato fatto, sicuramente ve lo posso dire a memoria che gli incidenti si sono ridotti. Mi auguro che si possa fare anche qualcosa per questo tratto stradale, insomma per cercare di migliorare la situazione ed evitare tragedie di questo tipo.